Sai perché visitare e vedere questi posti è un po' come per la nostra chira rotolarsi nella terra? Perché ci rende talmente felici regalandoci vibrazioni positive. Sì è vero, l'estate non è ancora arrivata, i nostri passi infredoliti in questa natura silenziosa non fanno così tanto rumore. Si sente solo l'acqua del ruscello ed il canto degli uccellini. Se poi le belle coincidenze ti fanno incontrare il nostro amico Matteo di Why Mountain by Trentino, la giornata assume un altro colore. Direi che basta con le chiacchiere, mettiamoci comodi perché voglio regalarti un po' di relax. Grazie a tutti. Grazie a tutti.